Studi di registrazione di Maurizio Buozzi, allora intanto vediamo nelle sue mani insomma in anteprima la copertina del disco che uscirà a breve e di quello che è accaduto il 29 di maggio al Teatro Tenda. Certo, sì, questo è un lavoro che abbiamo fatto in simbiosi con Vanni, con lo studio, il Garage Studio, Garage Sound che è su Civitella, che lui ha curato la parte audio di tutte le registrazioni della serata del 29 maggio e io mi sto occupando della parte grafica del CD, che il suono proprio è stato curato, cioè ridare lo splendore alla batteria, al basso, quindi secondo me è molto migliore di quello che si ascoltava in serata. Ci tengo a dire che è un progetto musicale e culturale perché vuole far ritrovare anche quella che era un po' l'atmosfera e il ricordo di tempi che potrebbero ritornare sotto l'aspetto anche della speranza, del bisogno di andare avanti, ritrovare le proprie emozioni, avere il coraggio di essere se stessi, di osare. Ecco, dobbiamo ritrovare il coraggio di osare. La musica è un po' come dire l'energia che ci tiene proprio dentro questa forza, questa voglia di andare avanti. I musicisti sono ritornati in campo. Allora, tanti professionisti, insomma Carlo, che si sono messi a disposizione del Calcet, la città che insomma si stringe nuovamente attorno a questa associazione, davvero dal cittadino più semplice che magari viene a comprarsi un oggettino da un euro a un mercatino, a un professionista, tanti professionisti in questo caso che, insomma, dovendoli pagare immagino che sarebbe per il Calcet impossibile, ma loro hanno messo a disposizione appunto il loro sapere per questa associazione. Dopo la magica serata del 29 maggio, che ha dato tanta soddisfazione in termini di rientri al Calcet con l'impegno dei musicisti, e non ultimo particolarmente ringraziamo anche la presenza di Pupo che si è calato in questa realtà con grande naturalezza, con grande modestia, ma con tanta passione, prova ne è che è ritornato da alcuni musicisti, noi li abbiamo invitati per ringraziarlo di questa sua presenza. E questa compilation, diciamo così, di 15 brani, che verrà, diciamo così, stesa in oltre numerose copie, sarà a disposizione di tutti gli aritivi, non soltanto dei musicisti che si vorranno risentire in maniera veramente garbata, una serata, ricordo di una serata magnifica, stupenda, magica, con tanta gente che ha dato il suo contributo e la sua beneficenza, la sua solidarietà, come era improntata la serata, non soltanto alla musica, ma particolarmente alla solidarietà e Calcet. Quando si dice Calcet, Chiarezzo, da 36 anni questo ente, praticamente questa associazione, questo comitato ha praticamente realizzato qualcosa come 18 milioni di euro, 36 miliardi di euro di vecchio con i quali ha assistito praticamente tutta la struttura oncologica, sia da reparti in muratura, inaugurato due centri, che anche reparti strumenti oncologici. E non ultimo, quest'anno praticamente tutto quel ricavato sarà anche dei dischi, dei cd, mi correggio il maestro Bozzi, dei cd non dei dischi, dei cd sarà devoluto allo scudo, che è l'acronimo di cure domiciliari e malati terminali, che costa il Calcet 300 mila euro l'anno. Questo ovviamente è un cd che sarà stampato in un tot numero di copie, che ora decideremo bene. Poi dopo, ovviamente non c'è problema, uno ristampa, insomma. Quando è la prima, c'è una data, un mese di uscita? Siccome siamo pronti, praticamente io credo che il 10-15 di novembre il disco sarà a nostra disposizione, quindi ovviamente tutti i mercatini di dicembre, di Natale ci saranno.